fratelli e sorelle bianconeri ma soprattutto fratelli e sorelle italiani giornata memorabile indimenticabile per lo sport italiano ragazzi in privato mi è stato chiesto di fare un video sull'arrivo di caio george alla juventus di questa stellina brasiliana di questa promettentissima stellina brasiliana ma io sinceramente preferisco fare un video su qualcosa di cui si parlerà tra 40 50 60 anni qualcosa di pazzesco solo inimmaginabile fino a questa mattina due ori che diverranno da leggenda sono già da leggenda ma probabilmente su questi ori si faranno film documentari insomma chi l'ha visto potrà dire io c'ero ragazzi Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs hanno fatto qualcosa di di assurdo oro nel salto in alto e nei 100 metri la gara regina delle olimpiadi assieme alla maratona gli uomini jet ragazzi Marcel Jacobs spaziale Gianmarco Tamberi è stato commovente le sue lacrime commoventi il suo festeggiare con quel gesso con quel gesso conservato per cinque anni quel maledetto gesso quell'infortunio quell'infortunio che gli negò l'olimpiade nel suo momento di forma migliore cinque anni fa tutto torna incredibilmente le sue lacrime oltre che per loro sono sono ovviamente per per questo risorgere per quest'araba fenice meravigliosa che risorge e vince dio restituisce a Gianmarco quello che tose quello che gli fu tolto cinque anni fa ragazzi sono senza parole Giacobbs straordinario inimmaginabile alla prima finale di un italiano sui 100 metri nella storia delle olimpiadi la vittoria subito qualcosa di pazzesco l'abbraccio tra loro due stretti nella bandiera tricolore mi ha fatto rabbrividire mi ha fatto piangere mi ha fatto commuovere e io francamente posso dire io c'ero nel senso io l'ho vista l'ho voluta vedere ho voluto vedere entrambe le gare fortissimamente in diretta come come ho voluto in passato puntare la sveglia di notte per vedere l'esercizio meraviglioso di Yuri Keki o il record del mondo di Michael Johnson che sapevo che avrebbe fatto in quel momento quando sento odore odore di grande impresa di impresa storica voglio esserci questo è il bello della diretta è il bello dello sport e sentivo che oggi sarebbe venuto qualcosa di pazzesco non immaginavo nessuno immaginava fino a questo punto ma ci credevo non so perché ho detto devo vedere assolutamente questi due eventi e questo doppio oro nel giro di 10 15 minuti e il loro abbraccio da meravigliosi amici italiani quali sono è qualcosa che ha toccato il mio cuore e il cuore credo di tutti gli italiani di tutti gli amanti dello sport ragazzi io a nome di tutti gli italiani voglio dirvi grazie per le straordinarie emozioni che ci avete regalato oggi io personalmente non le dimenticherò facilmente probabilmente non le dimenticherò mai grazie 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 veramente ragazzi senza parole in futuro ci sentiamo per altri video su caio giorgio su quello che volete voi sulla campagna acquisti della juve ma oggi è il momento di festeggiare questi due meravigliosi italiani ragazzi fino alla fine